Io parto da questo presupposto. Tutti mentono. Vaffan***a! Come c***o vuoi pensare che mento? A un padre fa sempre piacere avere tutte e due i figli accanto nel lavoro. A che c***o l'avete combinato? E questo sarebbe un servizio? Ogni tanto ricevo qualche intimidazione. Quella stro***a vuole spaccarmi il c***o! Lasciatemi il braccio! Lasciatemi! Chi lo sa che può succedere, ma speriamo che domani andrà meglio. Prova a toccarmi un'altra volta e giuro che ti ammazzo, stro***a! Grazie a tutti!